Due giorni fa Flavio Briatore ha annunciato su social di essere stato operato dopo aver ricevuto la diagnosi di una massa benigno. Oggi l'imprenditore, 73 anni, tornato nella sua residenza a Monegasca, racconta i dettagli dell'accaduto in un'intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo l'itero ospedaliero. Oggi l'imprenditore, 73 anni, tornato nella sua residenza. Sì, è la verità, ho preso uno spavento. Con fida Briatore, ero andato al San Raffaele per un check-up concordato da tempo. Ero felice e tranquillo, senza immaginare il pensiero che l'ha angosciata di più. Lasciare mio figlio, ha solo 14 anni, è ancora piccolo e sempre al suo ragazzo, nato dall'amore per la ex moglie Elisabetta Gregoraci, è andato quello che lo ha confortato di più, sempre ma devo ammettere che non ho avuto grandi pensieri. Ero concentrato sulle dimissioni e sul... Dobbiamo vivere anzitutto per noi. L'ex manager della Formula 1, fondatore e coproprietario, con Francesco Costa, della holding del lusso Magestas, ha saputo di avere un tumore lo scorso 14 marzo. L'ex manager della Formula 1, fondatore e coproprietario, con Francesco Costa, della holding del lusso Magestas, ha saputo di avere un tumore lo scorso 14 marzo. L'ex manager della Formula 1, quando mi sono svegliato, l'analisi era chiara, tumore benigno, da operare subito ricordo. Dopo la notizia Briatore è tornato a Monaco per festeggiare il compleanno di Nathan Falco, l'ho festeggiato con la madre, il mattino dopo sono tornato al San Raffaele, alle 14. Dopo la notizia Briatore è tornato a Monaco per festeggiare il compleanno di Nathan Falco, l'ho festeggiato con la madre, il mattino dopo sono tornato al San Raffaele, alle 14. Dopo la notizia Briatore è tornato a Monaco per festeggiare il compleanno di Nathan Falco, l'ho festeggiato con la madre, voleva venire subito a Milano, ma non volevo che mi vedesse in quelle condizioni. Voleva venire subito a Milano, ma non volevo che mi vedesse in quelle condizioni. Voleva venire subito a Milano, ma non volevo che mi vedesse in quelle condizioni. Così gli ho chiesto di aspettare e di non saltare. È venuto domeni. Vedersi nuovamente è stato un momento che il manager definisce molto commovente. È grande e grosso, è alto un metro e ottantotto, ma ha il cuore di un bambino, e ancora si è molto emozionato. Accanto a lui anche la ex moglie Elisabetta Gregoraci, che, dice, farà sempre parte della mia famiglia, Daniela Santanché, che è andata a trovarlo diverse volte, e Leni, accanto a lui anche la ex moglie Elisabetta Gregoraci, che, Flavio Briatore, nel video social in cui ha parlato dell'intervento, ha lanciato un appello per la prevenzione, ma c'è stato chi gli ha obiettato che la prevenzione è roba da ri... È vero, siamo dei privilegiati, dovremmo tutti poter fare i cè. Ci sono cose per le quali centro, destra e sinistra dovrebbero essere uniti e una è il diritto alla salute commentata al proposito e a chi lo ha accusato di non pagare le tasse in Italia, ma di essere venuto a curarsi qui, intanto per curarmi a Milano ho pagato, non l'ho fatto gratis replica, e l'ho scelto perché pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani, intanto per curare le tasse, l'imprenditore dice di pagarle anche in Italia, in tutti i paesi in cui ha delle attività, mi sono trasferito a Monte Carlo 10 anni fa, ma in Italia non vivo da 40 anni fa, quanto alle tasse, l'imprenditore dice di pagarle anche in Italia, in tutti i paesi in cui ha delle attività, mi sono trasferito a Monte Carlo 10 anni fa, ma in Italia spero di poterne assumere presto altri. Se adesso rallenterai i ritmi lavorativi? No, sono robe che si dicono e io so già che non lo farò aggiunge, dopo che ti succedono queste cose ricomincia a fare la vita di sempre, anzi, ora meglio di prima perché ho un cuore nuovo Pasqua, però, la trascorrerà tranquillo a casa, un po' di convalescenza la devo fare.